Questo è uno studio, qui registriamo continuamente. Qui registrate la tv, registrate, fai tv anche te? Sì, ma ne faccio tre al giorno. Tre al giorno? Eh sì, sì. Ma in tutto il mondo ne faccio, quindi non è un problema. In tutto il mondo? Sì, sì. Come in tutto il mondo? Faccio quella tv russa, quella tv dappertutto ne faccio. Noi siamo in Francia. Continuamente facciamo televisione. Gli israeli l'ho fatto con un rabbino per esempio. Con un rabbino israeliano hai fatto? Sì, sì. Oggi avevo, no domani ho una conversazione con uno della Grecia, poi abbiamo fatto con l'Inghilterra, io sono amica di Robert Kennedy per esempio, abbiamo fatto, adesso venerdì sera ci troviamo con l'avvocata di Kennedy per esempio. Scusa c'è qualcosa che non va, ma se voi divulgate fake news perché vi vogliono dal mondo? E' perché sono quelli che stanno dall'altra parte, non sono le tv di Stato, non sono i giornali di Stato. Uno scienziato ma non perché lo dice, non lo vuole registrare. Come se no, tu ti metti seduta lì? Ma scherzi, scusa eh? Lui sostiene sempre che è il vero genio della famiglia. No, 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 è lei il genio della famiglia. Ah, ecco. No, 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 io no eh, io no. Tu quello sei, già stai messo i ragazzi. Però lei, lei è brava a fare altre cose. Ma ancora è più piano. Diciamo, diciamo che nel 2012 a livello mondiale sono stata riconosciuta come fellow. Quello vuol dire? Vuol dire che sono il migliore dei migliori ricercatori al mondo. Allora vieni più vicino perché altrimenti non si sente piano la voce. No, allora, adesso arriviamo al fellow. Che lingua è? Perché dice... Sloveno. Quello è sloveno. Stefano Montanetto è integrato. Però ce l'abbiamo anche in polacco. No, 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 in estone. In estone, scusate. Ci vediamo un in estone, sì. E cosa vuol dire questa... Vaccini sì o no? Vaccini sì. Vaccini sì o no? Sì. Per colpa.